Il Vescovo incontra istituzioni e categorie economiche della città. Costruiamo insieme la casa comune. Covid nuovo balzano avanti dei contagi a Prato casi quadruplicati in un giorno superata quota 500 in Toscana. Licenziamenti alla GKN sabato a Campi Bisenzio, la manifestazione nazionale chiusi il Ponte Lama e via Fratelli Cervi. 15 milioni di euro dal governo per i progetti di riqualificazione urbana al soccorso e San Paolo. Alle Olimpiadi di Tokyo, spedizione pratese tutta al femminile, pronti a tifare per Acale Bruni e Vittoria Guazzini. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro Tg. Costruiamo insieme la casa comune. L'appello che il Vescovo Giovanni Nerbini ha rivolto ai rappresentanti delle istituzioni cittadine e delle categorie economiche e sociali di Prato, invitati ad un incontro comunitario che si è tenuto ieri pomeriggio a Villa del Palco. Vediamo il servizio di Giacomo Cocchi. Insieme, per guardare oltre la pandemia e costruire Prato come una casa comune, il Vescovo Giovanni Nerbini ha invitato le autorità cittadine e i rappresentanti delle categorie sociali ed economiche a Villa del Palco per un incontro comunitario per dialogare e raccogliere idee e proposte utili per il futuro della città. L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto presentato e intrapreso lo scorso autunno, quando il Vescovo lanciò Fare Patti, un percorso di ascolto e condivisione per riuscire a rispondere alle difficoltà di oggi. L'idea di Monsignor Nerbini è quella di rispondere all'invito che Papa Francesco rivolse ai Pratesi. Siate sempre animati dal desiderio di stabilire dei veri e propri patti di prossimità che il Santo Padre lanciò in occasione della sua storica visita alla città il 10 novembre 2015. In questo periodo ho raccolto richieste e inviti espliciti di persone di diversa estrazione e provenienza che mi invitavano a titolo personale o per conto di associazioni o gruppi a prendere l'iniziativa di promuovere patti di prossimità, ha detto il Vescovo ai presenti, e di farlo chiamando a raccolta le istituzioni pubbliche e private, il mondo imprenditoriale, le associazioni di categoria e il mondo dell'economia e del lavoro in modo da impegnare le energie e le risorse già presenti e attive per contribuire a progettare il futuro di questa città, ha detto Nerbini. L'incontro a Villa del Palco è iniziato con un'analisi della situazione economica e sociale di Prato e del suo distretto curata da Michele Del Campo, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale e sociale del lavoro, che ha sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni territoriali, strada privilegiata per riuscire a superare crisi e momenti di difficoltà. Negli interventi dei presenti, moderati da Gianni Rossi, direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, è emersa in modo trasversale la necessità di dar seguito a questa iniziativa e la disponibilità a porre in campo progetti concreti a favore della comunità, con un particolare riguardo ai giovani e al loro futuro. Coronavirus sale vertiginosamente il numero dei nuovi contagi da Covid a Prato, come nel resto della Toscana. Nella nostra provincia oggi si registrano 44 nuovi casi, quattro volte tanto rispetto a ieri. A livello regionale si è tornati sopra quota 500, effetto della variante Delta, anche se per adesso la situazione negli ospedali è sotto controllo. La risalita dei contagi da coronavirus in Toscana rispetto all'estate scorsa è in anticipo di tre mesi e il muro dei 500 nuovi casi, superato oggi con 505 positivi, nel 2020 venne superato il 10 ottobre dopo un'estate con la curva appiattita sullo zero. È l'effetto delle varianti con la Delta che in Toscana è ormai dominante e si trova nel 60% dei casi. Nell'ultima settimana i nuovi casi in Toscana sono stati 1.805 con un'incidenza su 100.000 abitanti di 49,20, triplicata rispetto alla settimana prima. Rispetto a ottobre scorso però i reparti Covid sono molto più vuoti. I ricoverati sono 90 contro i 190 dell'autunno scorso e in terapia intensiva ci sono 13 pazienti contro 30. I casi di positività sono quasi a zero tra gli over 80 e pochissimi nella fascia 60-79 anni, ma aumentano tra gli under 18 toscani e nell'ultima settimana ne sono stati accertati 243, praticamente il triplo degli 89 riscontrati un mese fa. nella settimana di giugno in cui chiusero le scuole. Per dare un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale, dopo il ritorno della possibilità di anticipare la seconda dose di AstraZeneca per gli over 60, la Regione Toscana ha deciso di anticipare a questa settimana il riavvio delle prenotazioni last minute, previsto per il 26 luglio. Intanto, in vista della riapertura delle scuole, il commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo, ha chiesto ai Presidenti delle Regioni di inoltrare entro il 20 agosto l'elenco dei docenti e del personale scolastico che non ha potuto o voluto vaccinarsi e, a seconda del numero di non immunizzati che verrà fuori, il Governo valuterà di disporre l'obbligo di vaccinazione, come già fatto per il personale sanitario. I lavoratori del GKN, licenziati in tronco dall'azienda, scendono nuovamente in strada in segno di protesta. Sabato, dalle ore 9.30, di fronte alla GKN a Campi Bisenzio, si terrà la manifestazione nazionale di solidarietà a numerose le realtà che hanno dato la loro adesione all'iniziativa. In concomitanza con la manifestazione, dalle 9 alle 14, il Comune di Campi Bisenzio ha stabilito la chiusura del Ponte Lama e di via Fratelli Cerpi, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'iniziativa. Le chiusure al traffico riguarderanno il tratto compreso tra la rotatoria di via Parco della Marinella e la rotatoria di via San Quirico di fronte al centro commerciale I Gigli. Sarà comunque consentito l'accesso al parcheggio del centro commerciale. Via Libera dal Governo al finanziamento dei progetti di riqualificazione nei quartieri del Soccorso San Paolo e Macrolotto Zero. Quattro gli interventi che hanno ottenuto risorse per quasi 15 milioni di euro. Ci sono anche quattro progetti messi in campo dal Comune di Prato, tra le 271 proposte ammesse al finanziamento del Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare, con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. Prato otterrà dal Governo 14 milioni e 850 mila euro che serviranno a finanziare i progetti cosiddetti PINQUA nei quartieri del Soccorso San Paolo e Macrolotto Zero, che vanno dall'edilizia residenziale pubblica alla rivitalizzazione degli spazi urbani. Per quanto riguarda il soccorso, i finanziamenti statali serviranno a riqualificare due mobili, comunali al momento inutilizzati, l'ex case minime di Via del Purgatorio e un edificio in Via Zarini, dove verranno realizzati complessivamente otto nuovi alloggi popolari. Ancora più ambizioso il progetto che riguarda altri immobili attualmente di proprietà privata. Nell'ex Fallegnameria Pugelli di Via Roma, interessata da un incendio nel 2015, verranno realizzati un centro anziani, spazi per il co-working e alloggi destinati all'housing sociale, un intervento che si affianca a quello del Parco del Soccorso, che diventerà realtà in seguito alla realizzazione dell'interamento della declassata. Mentre parte di un edificio, situato tra Via Roma e Via Siena, sarà destinato a spazi commerciali per le associazioni e del terzo settore e ad alloggi popolari. A San Paolo, infine, il Comune intende acquisire un complesso produttivo abbandonato di 8.000 metri quadrati in Via Rossini, che ospiterà la nuova sede dell'archivio comunale e un centro civico. È un progetto che ci rende orgogliosi, perché per cambiare le città in profondità ci vogliono risorse, che i comuni autonomamente, difficilmente riescono ad avere, soprattutto quando si tratta, ma in questo caso, di altri 15 milioni in arrivo sul nostro territorio. Si interviene nelle zone più dense e complicate della città, riqualificando l'edilizia residenziale, affitto calmierato, ma soprattutto spazi per associazioni, centri civici e appunto, come si accennava prima, l'archivio nuovo che ci permetterà di dismettere affitti e di fare un archivio moderno, anche capace di dare risposte alle esigenze dei professionisti che lo frequentano. Approvato il Consiglio Comunale, il bilancio consuntivo 2020, che si chiude con un fondo cassa di oltre 75 milioni di euro ed un avanzo di quasi 15 milioni, che ha potuto contare anche sui 18,6 milioni di finanziamento del Governo a sostegno dei comuni per le minori entrate e le maggiori spese dovute al lockdown e ai maggiori bisogni di famiglie di imprese. Migliora la performance per quanto riguarda i pagamenti verso i fornitori di beni e servizi, con le fatture saldate cinque giorni prima della scadenza. Il documento finanziario è stato approvato con 19 voti favorevoli ed 11 contrari dell'opposizione. Il Covid non ferma l'attività dell'Opera Santa Rita, anzi sono aumentati i servizi e nei prossimi mesi aprirà il centro polivalente per soggetti autistici. Vediamo. Il Covid non ferma l'Opera Santa Rita. Nel 2020 sono aumentati i beneficiari, sono cambiate le modalità di intervento che hanno dovuto necessariamente fare i conti con le normative anticontagio vigenti, ma non è mai venuto meno il ruolo primario della Fondazione di supporto e sostegno ai soggetti in difficoltà. È quanto emerge dal bilancio sociale 2020 del Santa Rita. Come rilevato dall'analisi, la Fondazione non solo non si è mai fermata, ma addirittura ha aperto tre nuovi servizi. È la capacità di resilienza che il Santa Rita ha dimostrato in questo periodo. I nostri servizi sono rimasti praticamente sempre aperti, tranne alcuni che per brevissimi periodi, qualche settimana, si sono chiusi perché la normativa non lo permetteva. Non solo abbiamo mantenuto i servizi, ma ne abbiamo aperti anche di nuovo. Nell'anno del Covid il Santa Rita ha aperto tre nuovi servizi importanti. Una casa famiglia di sperimentazione per il dopo di noi. Abbiamo implementato il servizio degli ambulatori e abbiamo aperto una nuova struttura fatta di due unità di 5 più 5 madri con altrettanti bambini per offrire questo servizio di sostegno alle madri con bimbi. Questo per noi è un elemento di soddisfazione che abbiamo raggiunto grazie al contributo dei nostri collaboratori, dei nostri lavoratori, che anche nel momento della difficoltà si sono rimboccati le maniche. Analizzando i dati, nel 2020 sono stati 798 gli utenti che il Santa Rita ha accolto nei propri centri, a cui ha prestato assistenza negli ambulatori o tramite servizi domiciliari. Un numero che negli ultimi 5 anni è quasi raddoppiato, soprattutto grazie all'inaugurazione degli ambulatori Autismo e Logopedia. Prezioso il contributo di 173 dipendenti, 21% dei quali uomini e 79% donne, tutti debitamente formati, oltre a professionisti, tirocinanti e volontari. Il bilancio economico chiude con un pareggio e i costi sono rimasti invariati, mentre si osserva una diminuzione dei ricavi rispetto all'anno precedente del 5% circa, variazione dovuta principalmente al calo delle prestazioni causate dall'emergenza Covid-19. Il Santa Rita intanto guarda al futuro. Sono infatti numerosi i progetti in ponte per questo 2021, uno tra tutti la realizzazione di un centro polivalente per soggetti autistici nei locali dell'Oratorio di Sant'Anna. L'impiego di manodopera irregolare, ma anche precarie condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro e dei locali adibiti a dormitorio. Ciò che hanno trovato i carabinieri di Poggio a Caiano, nell'ambito di un controllo interforze, in una tintoria di Via dell'Ombra. I militari hanno arrestato il 55enne gestore della ditta per aver impiegato due lavoratori irregolari. Al titolare è stata elevata una sanzione di oltre 10 mila euro e l'attività è stata sospesa. I carabinieri forestali hanno acquisito formulari di registro di carico-scarico dei rifiuti per valutare eventuali contestazioni relative allo smaltimento illecito dei rifiuti speciali, constatando che non erano state applicate le norme anti-Covid. Nuova viabilità in Via Machiavelli, via libera alla rotonda delle polemiche dopo mesi di sperimentazione, ma sono previsti anche altri interventi correttivi. Il servizio di Stefano De Biasi. Prima gli interventi per mitigare la velocità nel quartiere, poi la rotonda di Via Machiavelli sarà resa definitiva. E' quanto ha deciso il Comune per chiudere la vicenda relativa alla rotonda della discordia, che ormai da un anno e quattro mesi fa litigare i residenti della zona di Via Machiavelli. Entrambe le fazioni, infatti, hanno presentato una petizione in Comune. I favorevoli per chiedere di rendere al più presto la rotatoria definitiva, i contrari per chiedere di eliminare la rotonda. Oggi si è tenuta una nuova riunione in Comune, nell'ambito della Commissione Mobilità. Gli uffici tecnici hanno presentato le opere di mitigazione della velocità nel quartiere, che riguarderanno tre strade. Si parte da Via Capponi, dove sarà realizzata una piattaforma pedonale rialzata nelle vicinanze della Chiesa della Pietà, oltre al restringimento della carreggiata in concomitanza con l'incrocio con Via Abba. Un'altra piattaforma rialzata verrà prevista pure in via Giannone, dopo il parcheggio sul retro della stazione centrale. E si sta pensando pure ad un attraversamento pedonale rialzato su Via Machiavelli, proprio prima della rotonda della discordia. I lavori partiranno nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di concluderli per l'inizio dell'anno scolastico. Per quanto riguarda la rotonda, invece, il desiderio del comune è quello di togliere al più presto i New Jersey, che dovrebbero lasciare il posto a una struttura sormontabile e rimovibile. Tutto però dipende dai costi. Se dovessero essere elevati, allora è probabile che in autunno la rotonda diventi già definitiva, scrivendo così la parola fine sulla vicenda. Domani la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo per l'edizione giapponese sono due le pratesi in gara. Vittoria Guazzini nel ciclismo su pista e Rachele Bruni nel nuoto di fondo. Vediamo. Vittoria Guazzini e Rachele Bruni sono due le atlete pratesi che saranno in gara alle Olimpiadi che partono domani a Tokyo. Una spedizione ridotta è tutta al femminile rispetto a giochi di Rio 2016, quando in gara erano presenti addirittura cinque pratesi e quattro di questi tornarono a casa con una medaglia. Chiara Tabani e Stefano Tempesti nella palla a nuoto, Marco Innocenti nel tiro a volo, la stessa Rachele Bruni nel nuoto di fondo. Tre argenti e un bronzo ai quali si aggiunge anche il podio sfiorato da Marta Pagnini, quarta nella ginnastica a squadre. Una spedizione record che ovviamente non potrà essere replicata, ma la speranza che le due pratesi in gara possano comunque tornare con almeno una loro c'è. Vittoria Guazzini sarà impegnata nell'inseguimento a squadre su pista, 21 anni di poggio a Caiano e alla sua prima Olimpiade. Anche se giovanissima ha già raccolto a loro i successi a livello europeo e mondiale, dividendosi tra la strada e la pista. Ha iniziato a pedalare da giovanissima, tesserata per il Veloclub di Seano. Nel 2020 ha vinto l'ora gli europei nel Madison. La ciclista poggese sarà di scena martedì 3 agosto in mattinata. La veterana, per così dire, è Rachele Bruni da Comeana, che sarà impegnata nella 10 km di nuoto. Reduce dall'argento di Rio 2016, nella stessa gara in Giappone proverà a raggiungere il massimo obiettivo. È stata la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo nel 2015, ripetendo il successo anche nel 2016, e la sua bacheca personale contiene anche 12 medaglie europee e 3 mondiali. Rachele sarà in gara mercoledì 4 agosto alle 23.30. A Tocchio ci sarà poi un altro Pratese, anche se non in gara. Il montemurlese Marco Innocenti, che a Rio Garagio e tornò con l'argento al collo, sarà infatti il CT della tiratrice slovacca Danca Bartekova. È sfumato invece il sogno di Stefano Tempesti, che non è stato convocato nel settebello. L'Elander Pratese, a 42 anni, ha cullato in vano la speranza di partecipare alla sesta Olimpiade. Sarebbe stato l'ennesimo record di una carriera che resta comunque straordinaria per una vera e propria leggenda della palla a nuoto. Torna il Prato Film Festival con sei serate all'insegna del cinema. L'edizione di quest'anno sarà dedicata a Carlo Monni. Vediamo. È in programma dal 26 al 31 luglio, nell'arena cinematografica del Castello dell'Imperatore, la non-edizione del Prato Film Festival. La manifestazione di respiro internazionale prevede sei giorni dedicati al cinema, fra ospiti, proiezioni e incontri col pubblico. L'accesso alle proiezioni è gratuito, fino all'esaurimento dei 200 posti disponibili. A Prato si alterneranno esponenti di spicco del mondo del cinema, da Francesco Pannofino a Milena Vukotic, passando per Alessandro Benvenuti, Sergio Forconi e Francesco Ciampi. Solo per citarne alcuni, l'edizione di quest'anno del Prato Film Festival sarà dedicata all'attore Carlo Monni. A ricordarlo saranno tanti amici, che dalle 19 alle 20 ogni sera daranno vita agli incontri col pubblico. La cosa fantastica di quest'anno è che noi premeremo, attraverso la CNA Toscana Centro, Dipartimento Audiovisivo e Cinema, almeno quattro delle eccellenze pratesi che girovagano in giro per il mondo per quanto riguarda il cinema. Parlo di editore, significa montaggio, camera operatore, costumi e capi elettricisti. Dunque c'è tanta gente che a Prato si occupa di questo lavoro e non li premeremo. Quest'anno per la prima volta le proiezioni del festival saranno organizzate anche al PIN per coinvolgere gli studenti. Ogni giorno dalle 10 alle 13 saranno proiettati cortometraggi in gara nella selezione ufficiale del festival. A inaugurare la rassegna il 26 luglio al Castello dell'Imperatore sarà il film Ostaggi. Il 31 serata conclusiva con le premiazioni dei cortometraggi in gara. Da segnalare il tributo a Piero De Bernardi a cui è dedicato il premio per la miglior sceneggiatura, inoltre ci sarà un ricordo speciale per Isabella De Bernardi, attrice recentemente scomparsa e fin dalla prima edizione vicina al festival. A Montemurlo è in corso la sostituzione di tutti i lampioni con corpi illuminanti a LED. Un intervento di efficientamento energetico che permetterà a livello comunale di ridurre i consumi del 65% rispetto a quelli del 2012. Continuano gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica a Montemurlo. Dopo le frazioni di Oste e Bagnolo è iniziata nei giorni scorsi la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED a Montemurlo centro. Sono 2.100 i lampioni che in questa fase saranno interessati dagli interventi di miglioramento delle performance energetiche. In totale i lampioni della rete di illuminazione pubblica interessati dagli interventi di miglioramento sono 3.580. I lavori salvo i ritardi causati dal rallentamento delle forniture a causa del Covid saranno completati entro il prossimo mese di novembre. Gli interventi previsti sono quelli del miglioramento per quanto riguarda l'illuminazione di Montemurlo come parte centrale del paese visto che poi altri interventi erano già stati effettuati sia nella parte della frazione di Oste sia per quanto riguarda la frazione di Bagnolo. L'investimento è previsto praticamente in circa 400 mila euro. Un investimento che un comune come Montemurlo non è un investimento trascurabile. Tutti gli apparecchi saranno predisposti per essere telegestiti dal remoto attraverso il collegamento punto punto. e potrà essere sviluppata una rete per attivare la Smart City. È stato stimato che le nuove tecnologie di risparmio energetico applicate alla rete di illuminazione pubblica in un anno consentiranno di non consumare 765 barili di petrolio con 215 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera per assorbire le quali sarebbero stati necessari 1.538 alberi. Un intervento importante perché ci permette ovviamente nell'efficientare tutta la rete della nostra pubblica illuminazione di andare verso un risparmio di circa 65% di quello che erano i consumi del 2012. Quindi ovviamente un netto miglioramento rispetto a quella situazione, un miglioramento di quello che è l'illuminazione delle nostre strade, un miglioramento della sicurezza anche della nostra viabilità e ovviamente un risultato ambientale davvero fondamentale e significativo. Il nostro Tg per questa sera termina qui, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma. Vi ricordiamo inoltre che alle 21.15 andrà in onda la Notte delle Stelle, il gran galà del calcio dilettanti toscano, targato TV Prato, che si è tenuto martedì scorso al campo sportivo Chiavacci. Infine domani alle 17.30 in diretta dalla Chiesa di Santa Maria del Soccorso, la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa. A tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Abbiamo scelto gli uomini giusti, perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti, ma anche sereni. Baby gotta head down Baby gotta head down to the ground Looking for a stranger Looking for a stranger to love Prato Polli Professionisti della sicurezza, non guardi. Noi della celateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Prato. Salve e una buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lamma. La situazione attesa per domani non cambierà di molto sulla nostra regione, che sarà ancora protetta da questo promontorio di alta pressione di origine africana, che si va irrobustendosi sul Mediterraneo centro-occidentali. Una perturbazione atlantica, l'ennesima di quest'estate, tende però, lo vedete, ad avvicinarsi alle coste portoghesi, al Golfo di Biscaglia. È destinata anch'essa a transitare nel corso dei prossimi giorni sul continente europeo. Lambirà anche la Toscana, soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Andiamo a vedere ora quello che ci attende per la giornata di domani, una giornata sulla falsa liga di quanto vissuto oggi, caratterizzata al mattino da un cielo sereno, fatta eccezione per qualche modesto addensamento di tipo basso sul Valdaro Inferiore, sulla costa addensamenti che si dissolveranno rapidamente, già nel corso delle prime ore del mattino, assenza di venti con un mare prevalentemente calmo e temperature domattina stazionarie e quindi con minime comprese tra i 18 e i 21, 22 gradi. Nel pomeriggio prevalenza di sole ancora sulla costa e lungo la fascia litoranea, mentre sulle zone interne sviluppo di qualche addensamento comuniforme e possibile occorrenza anche domani di qualche isolato fenomeno temporalesco che interesserà le zone in prossimità dei crinali appenninici in serata. Il cielo poi tenderà a tornare stellato su tutta la regione, venti di brezza lungo la costa, avremo quindi un debole o al più moderato maestrale, venti scarsi invece sulle zone interne, i mari si mantengono poco mossi, le temperature stazionarie siamo ancora in linea con i valori tipici del periodo o su valori leggermente inferiori con massime comprese tra i 33 e i 35 gradi sulle pianure interne del territorio. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, inizialmente poche le variazioni, ancora una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche nube bassa sul valdario inferiore, ma lo vedete i venti tendono a ruotare, solo venti che si dispongono da sud-sud-est, venti di scirocco che porteranno aria più umida e anche un aumento delle temperature e soprattutto della sensazione di afa sulla nostra regione. Nel pomeriggio, lo vedete, un pomeriggio con cielo al più velato sulle zone settenzionali, prevalenza di sole e un pomeriggio abbastanza caldo con temperature che raggiungeranno anche i 36-37 gradi e come vi dicevo con maggiori tassi di umidità relativa che favoriranno una maggior sensazione di afa. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani con altri aggiornamenti. Noi della gelateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Il nostro è un gelato naturale di fresca mattiazione senza additivi e da sempre senza glutine, come i nostri dolci e il nostro yogurt. L'estate è alle porte, vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Fraso.